Beh, buongiorno ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo vlog! Ora devo andare a pranzo dai miei suoceri E poi, eh sì, oggi è una giornata un poco su Devo solo studiare e forse vado alla ricerca di qualcuno che mi cambia con la cavolo di bombola del soda stream che è finita E non posso bere acqua frizzante, oddio Sto malissimo Allora, stiamo andando al Conad di Mesagne, lo spazio Conad Perché ieri sono andata al Media World e non hanno la bombola per sostituirmela E io d'estate, se non bevo acqua frizzante, non so, non riesco di sedarmi Non lo so perché E quindi devo andare fino a Mesagne Per cercare o all'Euronics o al Conad la bombola E ne approfitto per fare un po' di spesa Perché ho scongelato delle pedine che avevo congelato due o tre settimane fa Stasera volevo mangiare quelle e ho dei pomodori Quindi forse prendo una mozzarella, vedo qualcosa Ho anche una batteria per questo perché sta avendo difficoltà ad aprire la macchina Quindi può essere che la batteria si sia scaricata Perciò ma recupero pure quella Boh, che mi sono messa in macchina, mi sono ricordata che ho dimenticato le pile Ah, che testa di rapa Comunque ho preso un po' di cose Ho preso il prosciutto, le uova che stavano in scadenza al 6 E quindi le ho prese Chi mangerà 6 uova? Non me lo chiedete Devo trovare il modo di mangiarle E ho tre giorni, va bene Ok Sara, ce la possiamo fare E ho preso i groovy Che buoni i groovy Oddio, quanto sono buoni i groovy Vabbè, ora andiamo a casa Basta, sono già le 3 e mezza E direi di spegnere qua Allora, vi voglio raccontare che cosa è successo Praticamente stavo tornando dal Conad E stavo in via Osanna Quella che va per via Cappuccini Che di Brindisi sa E praticamente vedo dallo specchietto retrovisore Un essere, un bipede Su una moto grande, un blu Non giovane Non un disottenne con la patente presa da poco Ecco, questo intendo Che già da dietro di me inizia a fare impennate Mi supera Si mette davanti a me E arriva tipo dopo nonna Mina Vabbè, comunque che di Brindisi lo sa C'è un via Cappuccini abbastanza rettilinea Si mette e impenna di nuovo Sta moto enorme In quel momento inizia ad attraversare Esce dall'ospedale Perché dice l'ospedale Esce dall'ospedale Un pedone che attraversa Io l'ho visto parecchio in anticipo Perché giustamente So guidare con prudenza Sono una conducente responsabile Questo giustamente stava inimpennata E non l'ha visto È riuscito Forse all'ultimo momento a vederlo Esce Cioè ha abbassato la moto Lo ha schivato E vi giuro Perché io stavo dietro 20 centimetri Magna anche E il pedone lo prendeva in pieno Allora io mi chiedo Ma la patente Chi ve la dà? E voi siete consapevoli Che i mezzi di trasporto I veicoli non sono Giocattoli Che voi avete una responsabilità Verso gli altri utenti della strada Che voi potete uccidere le persone Comportandovi così E utilizzando il momento di guida Come un momento di goliardico Io spero che si sente Perché c'è la centrifuga Però io sto nera Perché a me queste cose Danno un fastidio tremendo Cioè Perché la nostra vita Dovrebbe valere più di quella Di qualcun altro? Perché io dovrei Per 5 secondi 10 minuti Di divertimento Divertimento Mettere a rischio La vita degli altri Ma stiamo scherzando Cioè ma voi un esame di coscienza Non ve lo fate Cioè ma Ma davvero Ma voi siete dei delinquenti Dei criminali Raga mi sa che è da me Perché se ora annuso Dove ho il rubinetto Per chiuderlo Sì Se io annuso Dove c'è il Il rubinetto Per chiuderlo Lo sento parecchio Quindi è da me Cosa devo fare? Devo spegnere tutto? Sì qua dice Immediatamente correre a chiudere La valvola del gas E ad aprire tutte le finestre Cercando di areare Al meglio l'ambiente Ragazzi Io mi sa che chiudo la live Perché vedo di risolvere sta cosa Apro tutte le finestre Meno cose ci sono attaccate Alla corrente Meglio è Va bene? Mi perdonate? Ok Va bene Scusate Ok Vediamo di risolvere questa cosa Ok Scusate Perdonatemi Ci vediamo domani Quindi Buona serata a tutti Ciao belli Buonanotte Com'è finita? È finita che sono le 5 Di mattina Io Ho provato a prendere sonno Perché In internet ho letto Che andavano avvertiti I vigili del fuoco Non sono arrivati Perché le chiamate sono tante E Alle 3 Ho chiamato Il pronto intervento Di Enel Che in realtà Non lo gestisce Enel Però vabbè E Allora Praticamente La perdita c'era Però Noi l'abbiamo sempre avuta Questa perdita Mi ha spiegato il signore Che in realtà Negli ultimi Cioè ieri Il distributore Il fornitore distributore Del gas Cioè il distributore del gas Ha aggiunto più additivo Rispetto a quello solito Perché ad estate ci sono meno consumi E quindi Ha alzata la concentrazione dell'additivo Che dà l'odore sgradevole del gas Che serve perché Perché se no il gas sarebbe inodore E quindi sarebbe Estremamente pericoloso E hanno sbagliato la dose Mi ha spiegato E quindi hanno un sacco di chiamate Di gente che aveva delle piccole perdite Solo che una piccola perdita Ma con una concentrazione di additivo Molto alta Ti fa sembrare una grande perdita E quindi in realtà Nulla Ci ha sistemato la situazione E dobbiamo montare un'altra valvola Sulla caldaia Comunque Io vi chiedo tantissimo scusa Ma il video Non penso che uscirà alle 14.30 Perché Ecco diciamo che Tra 9 ore Io spero di essermi appena svegliata Ci mancava questa Io vi saluto Da una stanchissima Sodo Sara Vi saluto E nulla Ci vediamo sabato Spero con altri toni Ciao Ciao